365 giorni dopo il primo lockdown generale la provincia di Pesaro Urbino è ritornata a zona rossa così come lo ha fatto anche la città di Vallefoglia tante le attività che sono costrette a restare chiusi in questo momento dopo il passaggio da zona ranzone a zona rossa le novità riguardano soprattutto l'uscita perché si può uscire solamente per comprovate esigenze lavorative di salute oppure di necessità ma vediamo meglio che cosa si può fare che cosa invece è vietato le principali novità ormai in atto da mercoledì 10 marzo ed almeno fino a domenica 14 sono la chiusura delle attività commerciali anche a Vallefoglia sono chiusi i negozi al dettaglio e la principale novità riguarda la chiusura dei servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici sono rimasti aperti solamente negozi di prima necessità come generi alimentari, supermercati, vendita di articoli per l'infanzia edicole, tabacchi e farmacie poche novità per quanto riguarda la ristorazione dopo il passaggio da zona arancione a zona rossa alle pubblico sono chiusi bar, ristoranti, pasticcerie e gelatterie attività in cui restano consentite solamente la consegna a domicilio e l'asporto ma senza la possibilità di consumare sulle posto per quanto riguarda la scuola chiudono con la zona rossa anche gli asili nido e le scuole materne elementari, medie e superiori università vanno avanti con il 100% di didattica a distanza mentre rimane invece la didattica in presenza per gli alunni con disabilità e per le attività laboratoriali in ambito sportivo sono sospese tutte le competizioni salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dalle coni e dalle comitato paralimpico le attività motorie e il jogging restano consentite solamente in forma individuale e nei pressi della propria abitazione